Se siete malati, mi ho capolato non parare. Sì, puoi accanto. Sono morto lo so, mi sono ritirato. Quanti ne partiremo? No, senzionalmente, avevo paura, senzionalmente. Non la sento. Non posso farlo che sono morto? Non posso farlo? Visite, sono morto. Non posso farlo? Non c'è, non c'è questo. Non c'è questo. Non c'è un tassolo, non c'è un tassolo. Non c'è un tassolo. Mmi ho capito. E se siete? Non, non c'è un tassolo. no?